Eccoci a Limone Piemonte con Pietro Taricco, responsabile dei pulcini dell'equipe Limone, ma dello Sciclub è anche il referente di tutta la preparazione atletica. Cosa ci racconti? Allora la preparazione atletica viene sviluppata quasi interamente sfruttando il territorio di Limone e quello che appunto questo posto ci ci offre e la periodizzazione viene fatta appunto rapportandosi con i vari allenatori, quindi con tutto il discorso dello scestivo, quindi considerando bene le giornate di attività e le giornate di riposo. La preparazione viene strutturata appunto sulle varie categorie, quindi è strutturata per la categoria giovani, per la categoria cidre, per la categoria pulcini e il lavoro ovviamente va a incrementare partendo dai piccolini dove tutta la preparazione viene svolta per sviluppare quelle che sono le capacità motori di base tramite esercitazioni, attività ludiche e quant'altro e ovviamente si aggiunge poi un tassellino per quanto riguarda la categoria cidre dove la preparazione è sicuramente più mirata con esercitazioni che vanno anche a richiamare quello che è il gesto tecnico per arrivare poi alla categoria giovane ovviamente viene fatto un lavoro con carichi sicuramente maggiori sfruttando appunto la palestra, bici da strada e quant'altro. attra. Grazie a tutti.